Ben trovati da Salvatore, benvenuti nella piazzetta di Delta TV, lo spazio dedicato a investimenti e Basilea. Oggi parleremo di un argomento particolarmente importante, proveremo a dare delle indicazioni su come uscire dalla crisi. Lo faremo con due ospiti d'eccezione, la professoressa Antonella Antonucci, ordinario di diritto delle banche, e il professor Giovanni Ferri, ordinario di economia politica, entrambi dell'Università di Bari. Ringrazio entrambi gli ospiti per aver accettato il nostro invito. Grazie. Grazie a te. Bene, io comincerei subito col rivolgere una domanda al professor Ferri. Professor Ferri, come si può uscire da questa crisi? La risposta non è semplice. È una domanda molto difficile. La crisi, purtroppo, è con noi da cinque anni, da quattro anni in modo grave, e quindi fino a questo momento questa crisi ha vissuto varie fasi. C'è stata una prima fase di accelerazione, di intensificazione della crisi. Tutti si ricordano il fallimento dei Lehman Brothers, la gente che usciva dai grattacieli, che fino al giorno prima erano il centro della potenza, e uscivano con gli scatoloni, si portavano via le cose. Quella era la crisi, l'ondata americana della crisi, che risponde a una fase di irresponsabilità della finanza, di regole non rispettate, o di regolamentazione anche per certi versi, troppo soffice, troppo poco incisiva. E poi successivamente è arrivata la seconda fase della crisi, che è quella che stiamo vivendo adesso, che è una crisi che viene dall'Europa, la crisi dei debiti sovrani europei, che sta causando gravi difficoltà. È cominciato tutto dalla Grecia, ce lo ricordiamo alla fine del 2009, si è aggravato, poi la Grecia ha contagiato il Portogallo e l'Irlanda, poi è stata contagiata la Spagna, e la Spagna alla fine è stata contagiata l'Italia dal luglio scorso. E nonostante tutte le manovre che sono state fatte, credo che i risultati siano abbastanza modesti. Credo che l'Italia stia messa meglio rispetto a un mese fa, perché il governo Monti ci dà una migliore rappresentatività all'estero, una maggiore credibilità, ma il problema è l'Europa. e quindi l'instabilità ormai ha contagiato troppi paesi, uscirne sarà molto difficile. Professore Ferri, grazie per l'importante precisazione. Professoressa Antonucci, abbiamo sentito il parere di un economista, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista delle regole, come si può uscire da questa crisi? Dunque, primo problema, giustamente lo diceva il collega prima, l'Europa. Buona parte della responsabilità dell'aggravarsi della crisi nei diversi paesi europei è dovuta ed è tuttora alle incertezze significative che l'Europa ha manifestato in alcuni momenti chiave ed è dovuta anche al modo in cui è disciplinata la Banca Centrale Europea. questo insieme di regole, cioè sia i trattati, sia lo statuto della BCE, è modificabile ragionevolmente in tempi brevi? Sinceramente io ho delle perplessità a riguardo, anche se la posizione britannica di separazione forse è solo contingente, sui giornali gira la battuta che Cameron è quello legato ancora alla guida sinistra, dal lato sbagliato della strada e perciò anche alla North Station Area. Però va detto che anche nel momento in cui l'Europa fu creata nelle prime esperienze, al tiro spinelli, il primo entusiasmo, era pensata come una federazione molto leggera che in buona parte è stata realizzata. Situazione interna, si avvierebbe, ci sarebbe nel cassetto qualche politica di sviluppo, ma secondo me il problema è più di fondo, è un ciclo economico completamente esaurito, ciclo economico del modo di sviluppo del capitale finanziario che poi si è diffuso nel sentire, nell'atteggiamento, nei desideri di ciascuno di noi, nel modo in cui si vive il consumo. Questo Natale è percepito come triste, perché è un Natale di consumo ristretto, di incertezza e allora c'è da chiedersi come pensiamo di convivere con l'incertezza, quali sono gli strumenti per ipotizzare una costruzione di scenari diversi, che sono quelli della sostenibilità, delle energie rinnovabili, della mobilità intesa come occasione e non come penalizzazione. Quindi più che le regole, la percezione abituale che noi abbiamo, e siccome l'uomo è un animale abitudinario, nel momento in cui deve cambiare i suoi scenari ha ovviamente un riflesso di paura e di paralisi. Professor Ferri, la collega Antonucci ha parlato di capitale, nuove risorse, alla fine di un ciclo. E di questi giorni è anche la notizia che sul fronte bancario le banche hanno necessità di essere patrimonializzate. Ma lo stesso discorso riguarderebbe poi anche le imprese. Ma tutto il mondo è in crisi? O ci sono dei posti in cui l'economia galoppa e quindi noi potremmo aspettarci una mano da questi altri paesi? È dall'inizio della crisi nel 2008 che si parla di un decoupling, scusate il termine inglese, uno scoppiamento. Cioè da una parte i paesi ricchi che stavolta sono l'epicentro della crisi, dall'altra le economie emergenti che hanno continuato a trainare. Quindi i paesi ricchi hanno avuto un crollo del prodotto interno lordo, un abbassamento significativo della crescita. I paesi emergenti, in primo luogo la Cina, l'India, il Brasile ed altri, hanno continuato a crescere a ritmi sostenuti. Tuttavia non vi è dubbio che se dovesse finire male la crisi dei debiti sovrani in Europa con default importanti da parte della Spagna o dell'Italia, l'ondata d'urto sarebbe talmente forte che anche i paesi emergenti andrebbero in crisi. Quindi questo mondo a due velocità precipiterebbe in una crisi unificata. Allora ci sono due possibilità di uscita. Sono d'accordo con la collega che faceva riferimento al bisogno di cambiare il modello di sviluppo, di trovare un modello di sviluppo più sostenibile che sia meno basato sulla ricerca del profitto immediato che spesso è un profitto di carta che non corrisponde alla creazione di valore, alla creazione di benessere. E la finanziarizzazione, questo eccesso della finanza certamente ha giocato in questo. Bisogna trovare questo nuovo modello sostenibile di sviluppo e bisogna correggere gli squilibri passati perché in passato il mondo si è indebitato troppo, soprattutto si sono indebitati gli Stati Uniti ma anche tanti altri paesi. Quindi le crisi da debito sono in qualche modo una conseguenza di un mancato aggiustamento. E per uscire da questa situazione ci sono solo due modi. Una è la via dell'inflazione tradizionalmente che riduce l'onere sopportato dal debitore che deve ripagare perché ripaga con moneta svalutata. L'altra è la via della deflazione che è quella che si fanno fallire i debitori che non ce la fanno ripagare. La prima via è costosa, la seconda è infinitamente più costosa. La via che hanno scelto gli Stati Uniti con il quantità di visi cioè stampare moneta e anche il Regno Unito stampare moneta è la via inflazionistica che porterà all'abbandono del dollaro a lungo andare come valuta di riserva internazionale perché nessuno vorrà più detenere una valuta che si svaluta che ha inflazione ma riduce enormemente i costi. La via che ha scelto l'Europa sotto la guida della cancelliera Merkel che mi sembra che di economia non abbia imparato granché e non si sia fatta circondare da consulenti all'altezza della situazione la via che ha scelto l'Europa è quella della deflazione perché mettere i conti in ordine nel mezzo di una crisi significa semplicemente andare verso la deflazione quindi andare verso fallimenti a catena che ci porteranno a situazioni non più sostenibili. Ringrazio entrambi per le importanti precisazioni che avete fatto. Siamo in chiusura una battuta professoressa Antonucci come uscire dalla crisi? Penso che voglio dire convergiamo su molte soluzioni il problema vero è che la Merkel come altri leader europei sono sotto elezioni perché è una donna troppo intelligente ha costruito troppo per non capire che sta viaggiando verso il suicidio di fatti se notate le sue dichiarazioni sono sempre comparate alla lettura dei sondaggi interni tedeschi e allora il vero problema ritorno è la modifica dei trattati perché nel momento in cui le scelte di politica europea devono essere fatti da leader che devono rispondere ai loro elettorati in fase di crisi è chiaro che non si riesce a costruire una linea che serve per l'Europa Professor Ferri una battuta finale? Buon Natale Bene è tutto per questa puntata di investimenti e basilieri ringrazio la professoressa Antonella Antonucci ordinario di diritto delle banche e il professor Giovanni Ferri ordinario di economia politica entrambi dell'università di Bari per le importanti indicazioni che ci hanno fornito e come sempre se vuoi essere il protagonista della finanza dei mercati e dell'economia per un futuro finanziariamente indipendente ti aspetto per la prossima puntata di investimenti e basilea per la prossima puntata per la prossima puntata